Consiglio comunale teso appolla dopo la decisione da parte del sindaco Massimo Loviso di revocare le deleghe all'assessore Federica Mignoli per aver aderito alla Lega. Durante l'assemblea il primo cittadino ha ribadito le motivazioni della revoca sia per il metodo usato dalla Mignoli, secondo quanto sostenuto da Loviso, sia per la scelta di aderire al partito di Matteo Salvini. Il metodo riguarda la mancata condivisione con la maggioranza della scelta della Mignoli che ha reso noto la decisione attraverso i social e al sindaco lo ha detto solo il giorno prima a giochi già fatti e la scelta del partito invece apre un altro scenario, quello politico a polla, secondo il sindaco Loviso, la Lega non corrisponde ai valori della maggioranza di polla. Di che partito o quantomeno di che orientamento del comune di polla? Questo è stato chiesto dal consigliere di opposizione Fortunato Arista. La risposta è arrivata in un documento firmato da otto membri della maggioranza che hanno ribadito di essere dell'area del centro-sinistra, anche se, lo ha ricordato il primo cittadino, si tratta di una lista civica. L'ex assessore Mignoli ha ribadito le proprie idee e le proprie scelte e confermato che non sarebbe mai andata contro l'amministrazione o privato del tempo, con la sua carica di delegata per la Lega per il sud della provincia, al lavoro da assessore. Si è quindi dichiarata indipendente, inciunta e entrata al suo posto Luisa Trafuoci.